Torna Andrea Vitali, già finalista dei premi Strega e Campiello, questa volta con un libro dai toni intriganti, La mamma del sole, Garzanti, due donne, due misteri da svelare, un racconto ambientato nell'Italia anni 30, un romanzo che dà vita a personaggi toccanti. Ecco la voce di un padre, una storia vera, un libro attuale, questo di Vito Bruno, L'amore alla fine dell'amore, Elio Tedizioni, il tema della separazione è visto dalla parte di un padre che lotta contro una legge che lo allontana dal figlio, una richiesta disperata d'amore. Il 16 marzo del 78 l'ha guato ad Aldo More alla sua scorta, ora 34 testimoni oculari raccontano quella mattina, Via Fani ore 9.02 di Romano Bianco e Maglio Castronuovo per nutrimenti, una nuova inchiesta su quello che è stato uno degli attentati più gravi della storia della nostra Repubblica. Infine un libro per gli amanti dello sport e anzi per gli amanti del rugby, l'autobiografia di Marco Bortolami per Baldini Castoldi Dalai, il capitano italiano del Glaucester, della squadra di rugby del Glaucester racconta se stesso lo sport come metafora di vita.